Tantissime richieste dei cittadini di accesso agli atti, il che fa presupporre che saranno altrettante le richieste per eco e sisma bonus. Il comune dell'Aquila, in particolare il settore edilizia al cui vertice è tornato da poco l'assessore Daniele Ferella, corre a ripari e gli uffici verranno potenziati perché l'assessore Ferella ha chiesto almeno tre unità di personale in più. Eco e sisma bonus, il cosiddetto 110%, è una possibilità molto importante per l'utente perché se si migliora la propria abitazione a livello sismico o si fa un salto della propria classe energetica del fabbricato, ciò che si spende viene rimborsato più il 10%. La questione è in pieno svolgimento e il comune non vuole farsi trovare impreparato perché al di là delle proroghe dei tempi che saranno dettati dalle agenzie delle entrate, l'importante poi sarà eseguire lavori entro la data stabilita. Per questo l'assessore ha chiesto un incremento di personale per potenziare gli uffici ed avere persone dedicate soltanto a queste pratiche. È chiaro che questo forse è il tema del momento sotto il punto di vista della rilassificazione e dell'interesse dei cittadini. Ovviamente il comune non era pronto, il settore edilizia non era pronto a sostenere oltre alle pratiche di ricostruzione anche questo e quindi ho già provveduto a richiedere del personale ad hoc esclusivamente per questo tipo di provvedimenti perché comunque ci saranno delle scadenze temporali da rispettare quindi l'urgenza di far andare il più velocemente possibile sia gli accessi agli atti che speriamo vengano ridotti ma non perché non ci debbano essere diciamo questo tipo di richieste ma semplicemente perché ci auguriamo che le persone che hanno la casa abbiano anche la documentazione relativa alla propria casa e anche perché è difficile per il comune che molto spesso non ne ha a disposizione. E poi diciamo fondamentalmente quelle che saranno le valutazioni delle pratiche dati i tempi poi per la riconsegna dei lavori entro i termini fissati per legge.